Welcome to the Once More I Said show Siamo prona si no 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 c'è l'acqua lì no 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 E' quando torna è ancora lì What? What? Ho preso lo skiff! Ho preso lo skiff! Ho preso lo skiff! Dove? Skiff? Ho preso lo skiff col missilone stavo andando dritto è arrivato lo skiff Skiff uuuu What? Sto mettendo altre modifiche Per il pompa Sono esattamente sicuro di... no Che f***o? Sto andando di da un checkpoint Così Ma non c'è ancora Frank ragazzi ma che cazzo ho fatto Sì però anche te ti rimissione quando non c'è la bolla del divino C'è rimissione eh La prossima volta tirano quando c'è la bolla del divinity Eh ragione ragione stavolta sarà un po' più veloce Devi giocare con due personaggi, con due pc Il dual pc setup per fare il divinity e il missilone E' che potrebbe farlo? E' che potrebbe farlo? Col piede, farlo col divinity Eh beh sì Perchè ho fatto qualche cosa? Con il dito del piede zio Che sbatta anche Come si partecipa sta roba? Devi andare dalla svala E dirgli io My boy E lui ti da Inizio della quest Poi dopo vai da Eva Lei ti dice io My dude E poi dopo Ti da il medagliere E se ti metti l'oggetto della classe Troppi gli allori E poi con gli allori ci prendi Delle altre cose che ti danno le medaglie Poi le medaglie le schiaffi qua al centro Esatte parole comunque che ti dicono i personaggi E ogni volta che schiaffi qualcosa c'è il tifo Perché ci sono i bambini qua sotto che stanno lavorando per noi Che fanno il tifo Sì sì è bene confermato Stavo ricaricando Fuck me Vedi che sta cosa da ricaricare Continua a ricaricare tutti quanti Vorrei pure ammettere un'esotica che non deve ricaricare Potrebbe chiamarsi tipo rompigliaccio Ho un nome così dal nulla A caso Non so perché mi ispira a rompigliaccio Ma è simpatico devo dire Ottima inventiva Puoi insultare la navetta di Ezio se vuoi Io nel dubbio faccio sempre quello Ma perché è una bellissima navetta? Ma è orribile In lontananza è ancora peggio devo dire La vicino è anche un po' meglio Sembra più centrale l'abitacolo Da lontano mi riempavo storto È orribile È la nave più brutta che abbiamo mai visto nella mia vita E ogni volta che lo vedo lo ripenso Ah no c'è un barriere al posto del minotauro Va bene Ah nice Sono proprio contento guarda Ti dirò Sì che non ci spara mi va bene Immagina se adesso fa la barriera e passa il treno Eh yep 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 Io l'ho fatta 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 No devi correre a entrambe i lati Ehi che... Che ne scatta è mine Ok Sono solo i ricordi di... Scolas che tornano così Mamma mia Scolas Da ricordi eh Ma sono due barriera Ok interessante No Due barriera e un sovraffalito al centro che... Si sta menando con i cabal Wast potremmo fare un GM solo con Arnebrew No Ok Le chiavi Ho anche le chiavi Attenzione Attenzione Mi ricordo chiaramente... Mi ricordo chiaramente... Mi ricordo chiaramente avevo droppato il... L'oltre nulla io No il telecomando universale Io due volte l'oltre nulla era una volta il... Dude No 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 La luce è giù vero? Dude No Wast Dai... Va beh gli da unione Vero Dude Appena esci dal... Dal menù Aspetta... Sono uscito Guarda... Questa cosa... Non passerà mai di... Guarda Diego Diego Sembra la cazzo di lumaca What is this? Diego ma ti rompi... Ti rompi... Tutte le vetro... Tutte le cose... Sono morta raga... Mi piace il rischio... Ma non così tanto... Piano a terra Ok... No... Puzzle man! Puzzle man! Puzzle man! Puzzle man! Lo guardiamo oggi... Come supereroe che facevano delle pose pazzesche Sì scusa... Ma quante ne fa? Che... sei... Che... sei... No ragazzi è una roba... Chiamatemi... Ma... Oh! Ed è pure animata Ma adesso se vedi... No impossibile... Ma... È vero... Ma come hai fatto? Vado, vado, vado. Ah, ho visto anche l'invasore. Ti preoccupare di niente. Ok, adesso sono circondato. C'ho il mob dietro e l'invasore davanti, come piace a me. Dei che bel personaggio. Ma tu li stai facendo ancora per il reset? Sì. Diego, sei arrivato tardissimo a reset questa settimana. Cosa è successo? No, non è vero. L'altra volta ho finito le taglie che... Mi stai per caso dicendo che Destiny non è il tuo main gioco? Eh. Diego, hai altri giochi che non sono Destiny? Mi piace dirsela così, Wans. Diego, questo non va bene, lo sai vero? Voglio abbastare il volume delle potere. Eh, però sei invece 50-50, è una cosa assurda. р e two ho finito. Mi sono finiti i poteri della luce nelle mani- Vado via, vado via. Allì... È un ghiacciaio, va. Aspettiamo! Oh, sono morto, ragazzi. Sì! paddoch. Sì, sono morto, sì. Esagerati, sono solo un guardiano. Sono solo un guardiano. Si è partito il romagnolo. Esagerati, sono solo un guardiano. Dai ragazzi, si scherza, dai. Eh, bisogna fare un punto, no? Sì, è vinta. Pariggio. Pariggio. No, il pareggio no, dude. No, il pareggio no. Ma come pareggio? Non ho mai pareggiato. Leonardo non pensavo che fosse possibile. Vabbè, non è una clemenza però. Non pareggio. Incredibile. Incredibile. GGs. Mi sono perso la rotazione. Ok, sopra. Ah, volevo mettere la trappola di bastione. Un è finito di sotto! Dudu, non c'è modo che sia... Ok, non è sopravvissuto. Che bello. Ha fatto il detrasporto e è finito di sotto. L'ho visto volare. Ok, siamo molto... Ok, come ho detto. Sono sul ponte, ok. Non penso ci sia da commentare. Iii, è mio! Ok, forse no. Ciao, ragazzi. Ragazzi, è stato bello. Allora, stai qua. Eeeh, è così giovane. Se ci aveva sempre. Io lo volevo, volevo pusharlo giù. E invece no. Era la straz. Premo in shot. Un pixel. Ezio, un pixel. Ezio, trova il pixel. Trova il pixel, Ezio. Allora? No, non è io. Resta solo un nemico. Nice. Cosa? La tenete? Resta solo un nemico. Vai! La morte non può fermarmi. Grazie. Vittoria impressionale. Ma... Le mie speciali! Le mie speciali! Ma cosa è successo? Il bobina! Il bobina mi ha spinto delle speciali, dai. Ma uno dei loro è tipo il 900 del pass? Ho visto male. Eh, mi sa di sì. 985, sì. Ok, ok. Va bene. 900 passa. Del pass. 900 pass. Dovrei scrivergli se ha bisogno di aiuto. Pensavi che giocavamo tanto noi, eh? Ma... No! Mi stai scherzando! Ha fatto rimbalzare il gruzzolo qua sulla porta e me l'ha sticcato che ero qua dietro! No, no, ho fatto tutto, guai, se è stato assurdo, è stato assurdo, non ho avuto nessuno. Non mi posso credere. Insente. Io amo questo uomo, io voglio gli manuali che sta amicizia e... Facciamo profezia in due, solo flawless. Profezia in due, però... No, solo flawless in due mi sembra... Però, con il gruzzolo gamer è tutto possibile. Ok, dammi un secondo. Sono invisibile! Sono invisibile! Eh, ma nel gioco non mi interessa. Sono invisibile! Mi interessa il tuo classico che fa una sola cosa e non funziona neanche. Più è quello, cioè, se si semassero l'invisibilità... Non dico invulnerabile, ma almeno, tipo... Dategli quel perk della storia di... Del ride. Ops! Guarda, guarda, io che voglio... Non dovrebbero fare un perk, tipo, perché da invisibile i nemici non ti vedono. Ok, ok, non c'è ancora un gladiatore, non so. Sarebbe incredibile, n'effetto, che l'invisibilità è... Aspetta, l'invisibilità, che effettivamente non ti vedono. No, è rotta questa cosa. Eh, lo so. Che non sei trasparente, dici. Eh, esatto. No, no, ma... Io dicevo, tipo, quello della storia che non ti riescono a colpire, una cosa del genere... Sì, alla fine c'è una storia più buona, io intendo. Eh, intanto è programmato, lo mette... Cioè, i cacciatori diventano astori. Bello, non è cavalciabile. No, esplodiamo? Vikius, io prenoto già la prima cavalciata. Lo prendi per il mantello. Come, scusa? Puoi ripetere con la stanza e tanto per... No, non la ripete! Ha detto, Vikius, io prenoto la prima cavalcata. Secondo me, per la complottista, sono truccati. Come sono truccati? Perché secondo me vogliono introdurre il nuovo cavo dei cacciatori con la vittoria. Perché sennò dove lo mettono? Vicino a Cade morto. Cade 8? Eh sì, lo mettono lì al posto di Cade morto. Cioè, senza Cade. Solo col pollo. Solo il pollo d'oro. Vicino al colorello, sì, c'è stato. C'è il serpente, d'oro e il pollo che lo guarda infassidito. Cioè, immagini, Zavala l'altra volta aveva il discorso, abbiamo vinto e viva, bravi. Ho tutto qui, invece vai. Ma dai, cos'è che non hai, lo shish? Devi aumentare di donna passa, guarda. Che abbia, mi scendi, passa. Shish! Guarda, ho detto uno, non diventare una capra. Shish! Ok, ce l'ho fatta. Sai cosa mi sembra? Cazzo, era un animale di spaduorso, non ricordo mai quale, però faceva... Io oggi volevo fare serata, azzardo, online long. E invece... Vicky, mi hai fatto venire sulla torre per questa stronzata? Non riesco a uscire! Quando sei stanco di spade magiche e lanciarazzi divini, così porti la mitragliatrice del Vietnam su Destiny ed è tutto un ratatatata. A Doolin Carl peccato per il primo giro, che non era così che doveva andare CIT, mentre il secondo è stato perfetto. Bicipite.